Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi per la prima volta voglio fare un video vestiti indossati cioè ho fatto un sacco di acquisti di abiti molto carini su asos ultimamente ma non li ho ancora provati quindi nemmeno voi li avete mai visti addosso a me e secondo me visto che domani ho un matrimonio e non so bene quale abito scegliere voglio provarli con voi perché secondo me può essere una cosa interessante per la prima volta poi magari se volete fare qualche acquisto su asos li vedete come sono dal vivo eccetera e vi potete fare un'idea soprattutto potete darmi un consiglio su quale vestito indossare a questo matrimonio secondo voi quale mi sta meglio e sono tutti un po' diciamo da cerimonia o da serata quindi non sono abiti, alcuni sono anche un po' più casual in realtà quindi si possono indossare sia per un matrimonio oppure semplicemente per una serata estiva insomma secondo me sono tutti molto molto carini ma una cosa ovviamente è vederli sul sito un'altra è provarli addosso ok non ho più la confezione di asos grande da farvi vedere altrimenti ve l'avrei fatta vedere ma perché li ho già spacchettati tutti però praticamente tutti hanno ancora l'etichetta e adesso vedremo infatti sono in pigiama praticamente proprio perché adesso mi metterò a provarli con voi niente bando alle ciance come dico sempre io e tra l'altro è la prima volta che filmo con i miei capelli argentati cioè qui in stanza a vedermi nel monitor stranissimo comunque direi let's go e andiamo andremo di là in camera da letto slash cabina armadio e così vediamo anche di accessoriare un po' gli abiti ok allora questo è il primo abito che secondo me è uno dei più fattibili per un matrimonio il blu porta bene e trovo che mi stia anche bene in più è anche molto comodo forse è un po' largo qui ma in realtà mi piace ed è anche relativamente fresco in realtà per una serata per una giornata estiva ho abbinato questa pochette Saint Laurent ma non so se necessariamente sarà quella che metterò e questo è l'abito la gomma è un po' strana perché si apre tipo e sotto è liscia però non mi dispiace affatto naturalmente per la parte della chiesa metterò un foulard sopra ma un po' tutti con tutti gli abiti che vi farò vedere devo indossarlo però onestamente mi sembra molto molto carino voi che cosa ne dite mi raccomando fatemi sapere votate poi nei commenti quale secondo voi mi sta meglio e quale dovrei mettere vi prego vi prego ok quindi opzione numero uno è questo la luce non sarà il massimo qui ma ho solo una delle due luci del mio studio e la luce sopra di me è un po' più giallina quindi perdonatemi e anche il fondotinta non credo che sia quello adatto a me ma fa niente perché mi sono truccata praticamente solo per registrare questo video quindi secondo poi con l'abbronzatura è sempre difficile regolarsi con il fondotinta quando ti stai abbronzando un po' non sai se metterne uno che poi è troppo chiaro troppo scuro è difficile non è facile come vi regolate voi comunque piccola parentesi quest'altro abito è simile come taglio rispetto a quello che abbiamo visto poco fa però è nero e non so sinceramente se lo indosserei ad un matrimonio o magari piuttosto per una serata elegante anche questa pochettina è di Saint Laurent anche la catena in realtà non mi dispiace solo che non so se per un matrimonio può essere una scelta giusta anche se non credo ci sia nessuna regola che vieta il nero ai matrimoni ma di solito si preferiscono colori un po' più accesi che non sia però il rosso da quanto ne so ma di rossi non ne ho in programma quindi in realtà è molto carino mi piace quest'abito è anche questo super comodo super fresco la gonna è leggera e non ha quello spacco strano che aveva l'altro questa è una gonna unica molto carino però forse lo indosserei di più magari per una serata un po' più elegante piuttosto che per un matrimonio non lo so ditemi voi non so se c'è una regola che vieta il nero ai matrimoni in realtà fatemi sapere che cosa ne pensate secondo me è molto molto carino molto semplice anche qui ovviamente devo indossare qualcosa in chiesa per coprire le spalle però tutto sommato non mi dispiace molto carino cosa ne dite? ok poi c'è quest'abito che però ragazzi sinceramente mi vergogno un po' a mostrare perché praticamente ha la schiena dietro completamente aperta ok e anche i lati e quindi non posso indossarci un reggiseno perché ovviamente si vedrebbe tutto dietro ok in realtà mi piace un sacco quest'abito il problema è che appunto si vede un po' troppo per i miei gusti nel senso che dovrei avere un reggiseno adatto e non ce l'ho quello in silicone ce l'avevo e l'ho buttato perché li detesto sono super super scomodi e poi in estate quando sudi è la morte e quindi non ho un reggiseno adatto o vado così però mi sento un po' strana senza indossare niente e poi si vede e quindi non penso che sia proprio appropriato per un matrimonio sinceramente però devo dire che l'abito è meraviglioso devo solo trovare e lo indosserò sicuramente insomma non domani ma lo indosserò perché mi piace un sacco scusatemi se sono così per tutto il tempo ma l'abito è bellissimo cioè è seriamente seriamente bellissimo l'unico problema è che appunto cioè si vedono i capezzoli ragazzi io non ci posso andare così cioè veramente questo è il video più assurdo che io abbia mai fatto ma a parte questo secondo me è meraviglioso è veramente veramente splendido anche il colore mi piace tantissimo però devo trovare un modo e ho anche quelle specie di scotch che tanto usa Kim Kardashian ok ci ho provato ma non mi piace il risultato e ho anche i copricapezzoli che forse potrei usare però comunque secondo me è un pochino troppo si vedrebbe ecco che non indosso un registrino però votate comunque anche quest'abito e fatemi capire se vi piace se non vi piace se è comunque se è comunque un abito che secondo voi è carino oppure no a me vabbè il rosa è il mio color preferito quindi è ovvio che mi piace anche se appunto ha questo piccolo problemino però è molto bello il fatto che ci sia questo spacco molto sexy qui e anche dietro in realtà altro abito è questo che mi piace tantissimo per lo scollo che ha ed è di questo bellissimo verde smeraldo meraviglioso c'è questa apertura ma in realtà non si vede quindi mi sento abbastanza a mio agio mi piace appunto moltissimo questo insomma il colletto e questa apertura poi e il colore insomma menzioniamo il colore è bellissimo cioè questo verde è veramente stupendo spero si riesca a capire bene il colore dal video e lo trovo meraviglioso forse il bracciale è meglio indossarlo dal lato dove non ho la borsetta così lo trovo davvero meraviglioso meraviglioso e c'è uno spacco in realtà non so se riuscite a vederlo ma non è non è alto anzi arriva al ginocchio quindi credo sia appropriato per un matrimonio e mi piace un sacco vi devo dire la verità mi piace davvero davvero tanto forse mi piace di più quello verde cioè quello quello rosa che ho appena provato ma anche questo è molto molto carino e penso che possa essere una scelta per domani anche se non sono ancora sicura ma secondo me è fattibile potrebbe essere un pochino più stretto in vita in realtà ma secondo me è comunque molto molto carino e appunto ripeto non necessariamente solo per il matrimonio io li sto provando in questo momento per domani per perché sono stata invitata al matrimonio però altrimenti insomma ovviamente potrei indossarlo in qualsiasi altra serata estiva e un'uscita fuori secondo me è top ultimo abito anche questo è blu e anche questo ve lo faccio vedere subito questo è un pochino più stretto in vita cosa che mi piace perché fa appunto risaltare la vita e la rende più sottile anche questo ha uno spacco bello ampio qui quindi si vede un bel po' la schiena anche questo va portato ovviamente senza registino ma almeno qui non si vede tutto come con l'altro e secondo me è una buona opzione l'unico problema è che la gonna è davvero super super ampia perché ha un sacco di strati e quindi temo sia un pochino troppo caldo per una serata estiva vabbè che è una serata però ho paura che appunto sia troppo 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 cioè troppo caldo lo sento forse sì la parte sopra non tanto gli altri però erano tutti molto più freschi molto più estivi questo è non so se riuscite a notare ma la gonna è veramente molto ampia è fatta da molti strati anche se devo dire mi piace molto quest'abito devo dire la verità mi piace tanto l'unico problema è che appunto secondo me è un pochino troppo caldo forse lo indosserò di più nelle serate magari di fine estate o per qualche evento quando non fa troppo caldo o sono al chiuso e quindi questo sì è molto molto bello sì lo trovo molto molto carino ma purtroppo per domani non è adatto ma è sicuramente un'ottima scelta prossimamente quando avrò qualche evento particolare ok ragazzi questo è tutto per il video di oggi è il mio primo video in cui indosso qualcosa per farvelo vedere dopo aver acquistato quindi fatemi sapere se ci sono cose che posso migliorare e basta questo è quanto sostanzialmente io adesso spero vi sia piaciuta l'idea di recuperare il sabato se ho mancato con un video durante la settimana e niente vi mando un bacio grande mi raccomando fatemi sapere secondo voi qual è l'abito che mi sta meglio qual è quello che mi consigliate di indossare ok ma un bacio grandissimo mia famiglia vi voglio bene ciao 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 ciao